Siamo qui, siamo qui a Roma, all'albergo Jolly, come vedete, la cosiddetta Villa Carpegna e come ora si sta calmando, però sono 15 minuti che scendono, le grandine, è brava, una pioggia incredibile, mai vista in vita mia. E qui a Roma non la vedono spesso, ma noi nel New Jersey e nel New York la vediamo spesso ragazzi, vedete la natura, guardatela, qui signora la posso chiederti? C'è una macchia, smostiamoci! Ok, ciao, grazie! Ciao, grazie, è stato bello!